E' successo intorno a luna di notte, malviventi hanno tentato riforzare l'ingresso della fabbrica dei fratelli Chini a Ponticino. Si tratta di uno dei colossi dell'industria orafaretina, già nota le scorribande della criminalità organizzata per un furto che si registrò qualche anno fa. I ladri hanno usato un trattore con lo scopo di sfondare il cancello che porta all'ingresso principale. E' immediatamente scattato l'allarme. Nel giro di poco tempo sul posto si è precipitata una pattuglia della Vigilanza Securitalia che ha chiesto l'immediato intervento dei carabinieri. C'è un particolare che ha ancora reso più problematico l'opera di interdizione ai criminali per strada. Erano stati disseminati chiodi a forma di croce di Sant'Andrea per rallentare l'intervento delle forze dell'ordine. Appena dato l'allarme sono stati avvisati anche i proprietari che nel giro di poco tempo si sono recati in azienda per rendersi conto della situazione. I ladri una volta entrati si sono barricati all'interno chiudendo il portone già sfondato con delle catene. Da lì sono riusciti a trovare una via di fuga prima dell'arrivo dei carabinieri della Vigilanza. Subito sono iniziate le indagini per risalire agli autori di un tentato furto che per la dinamica, ricordato quello che in zona abbiamo già visto sempre a Ponticino e Castelluccio in due aziende già visitate dai ladri.